Salve amici di GuidaiPhone, oggi vi mostro questo cutter, si chiama NusiCutter e serve per tagliare le sim, farle diventare micro e nano sim attraverso questi fori che vedete qui. L'utilizzo è praticamente immediato, basta infatti inserire la nostra sim normale che vediamo qui nell'apposito foro esattamente come in figura, poggiare, ci assicuriamo che tocchi fino alla fine, altrimenti non vogliamo distruggere una sim e premere con forza. e voilà, abbiamo la nostra prima parte, abbiamo una micro sim dovrebbe essere e possiamo adattarla immediatamente a uno dei nostri adattatori, come vedete è della stessa grandezza di una micro sim e la possiamo inserire qui. L'unico problema che potremmo avere è di limare i bordi, come potete vedere vi faccio un attimo notare. Ecco qui, i bordi sono un po' rovinati ma insieme al nostro kit viene rilasciata una, che la ritrovo, questa che è una normale carta vetra con la quale possiamo smussare gli angoli per poi non avere problemi di nessun tipo. Ecco qua. Arrotondati gli angoli proviamo a vedere se si può utilizzare direttamente all'interno del nostro adattatore. Va smussata ancora un po' questa parte. Nessuno ha detto che sarebbe stato un lavoro semplice. E' veloce soprattutto, però noi abbiamo tempo. Ecco qui. manca ancora un pezzettino da smussare. Ecco qui, forse ci siamo. Entra in maniera abbastanza precisa all'interno del nostro adattatore. Ecco, perfetta. Non so se si vede. Comunque entra alla perfezione. Adesso proviamo questa volta a trasformarlo in una nano sim di quelle che appunto vanno all'interno del nostro iPhone. Seguiamo sempre la formina. Spero riusciate a vederla qui. Ecco qui. tiriamo fuori tutto. In dotazione abbiamo anche questo. Per provare. Soprattutto serve per far adattare al meglio la nostra sim. Proprio per evitare di perdere pezzi. Ok, una volta che abbiamo inserito al meglio la nostra sim con cura l'adaggiamo. Rinseriamo il perno e schiacciamo. Ecco qui. E abbiamo fatto, abbiamo creato la nostra nano sim. Guardate. Perfetto. Anche qui, volendo, potremmo adattare gli angoli per smussarli un pochettino. Adesso facciamo un test con un altro adattatore. Come vedete... Come vedete alcuni... Questo è il pezzo che mancava prima. della micro sim. Invece questo è il bordino che abbiamo ritagliato per l'altra sim. Come vedete mancano alcuni contatti, però non sono indispensabili probabilmente per il funzionamento della nostra sim. Quindi possiamo solo capirlo testando la nostra sim all'interno di un telefono. Intanto vediamo di far entrare la nostra sim all'interno. l'ho smussato ancora un pochino. Ecco qui. Ecco qui. E anche questa volta ci siamo riusciti. Come vedete entra perfettamente. Adesso dobbiamo solo provarlo su un telefono. E vediamo subito. Allora, prendiamo il nostro bel iPhone. Inseriamo la nostra scheda. Ritagliata all'interno dell'adattatore iPhone. Come vedete c'è scritto nessuna sim. Spero che riuscite a leggerci. Inseriamo e vediamo un attimino se la sim viene riconosciuta. Bene. La sim viene riconosciuta. Inseriamo il nostro codice. Perfetto. La sim funziona. Adesso non manca che fare la ricerca. Però la sim è stata riconosciuta ed è funzionante. Bene. Questa era la recensione del nostro nuovo amico per il ritaglio delle sim. Enusi. Trovate tutte le istruzioni per l'acquisto nel dettaglio di sotto a questo video. Spero che la video recensione vi sia piaciuta e alla prossima. Grazie. Grazie.